Amiche ed amici, ben trovati, sono il dottor Vincenzo D'Amico e questa è la nostra consueta rubrica di odontoiatria. Nella puntata di oggi ci occuperemo delle lesioni cistiche dei mascellari. Le lesioni cistiche dei mascellari che possono riguardare sia le zone dove si trovano i denti sia le zone e dentule si dividono in odontogene e non odontogene. Utilizziamo questi termini strettamente tecnici per distinguerle dalle cisti che hanno derivazione direttamente dentale dovute o a dei residui embriologici dei denti o a delle patologie infiammatorie che sono poi degenerate in granulomi e in cisti infiammatorie oppure cisti non odontogene che quindi non hanno nessuna correlazione con la struttura del dente se non in alcuni reperti embriologici e che sono potenzialmente più aggressive e più indaginose a livello operatorio. Quando parliamo di cisti parliamo comunque di lesioni non maligne anche se la loro aggressività in alcuni casi può essere molto distruttiva a livello locale. È il caso ad esempio della meloblastoma o della keratocistica odontogena che hanno delle forme di recidiva molto importanti e che quindi non possono più essere affrontate in ambulatorio dal chirurgo orale ma devono essere affrontate in sala operatoria con delle resezioni purtroppo più traumatiche. Le classiche cisti che troviamo generalmente nella nostra pratica clinica e che possono essere diagnosticate quasi esclusivamente con la radiografia sono delle cisti infiammatorie che si trovano sotto i denti quindi denti che magari hanno subito dei trattamenti canalari, delle devitalizzazioni incongure ma non è necessariamente detto. Oppure cisti infiammatorie residue che cioè originano da dei residui epiteriali, da dei residui lasciati dopo un'estrazione. Abbiamo selezionato alcuni casi che abbiamo affrontato nella nostra pratica clinica appunto per darvi una spiegazione dettagliata. Il primo caso che veniamo ad affrontare è questo di una donna sui 60 anni che tramite un controllo radiografico poiché la paziente era asintomatica ha sviluppato una cisti nella zona della sinfisi mentoniera. Questa cisti comprendeva 4 denti e a differenza delle mie aspettative tutti gli elementi erano vitali. Gli elementi vitali ci fanno optare per una cisti non infiammatoria. Andando a valutare poi il restauro protesico e l'occlusione superiore, nonché il fatto che i denti anteriori erano molto abrasi, abbiamo optato per la possibilità di avere una cisti traumatica. Dopo l'intervento, l'eliminazione e l'analisi istologica, la nostra diagnosi era stata corretta e a distanza di 6 mesi il tessuto osseo è totalmente rigenerato. Non abbiamo dovuto estrarre né devitalizzare i denti contro le nostre aspettative per fortuna e la lesione, possiamo dire, è assolutamente risolta. Come possiamo vedere, una delle prove di benignità sta nel fatto che le radici del dente vengono inglobate dalla cisti ma non vengono riassorbite, i denti conservano la loro integrità. In alcuni casi, però, abbiamo la possibilità di avere delle lesioni più gravi. Come detto, quindi, la presenza delle radici del dente è un segno di cisti benigna. Quando invece abbiamo, per benigna intendiamo cisti non aggressiva, quando invece abbiamo il riassorbimento delle radici del dente, ecco che la cisti deve andare in diagnosi differenziale anche con le neoplasie maligne più aggressive, che siano carcinomi, sarcomi e tutto il resto della parte oncologica. In questo caso abbiamo un quadro molto particolare, poiché un ottavo incluso aveva potenzialmente creato una cisti follicolare, cioè una cisti che si è scatenata dalle cellule staminali che componevano la sacca che stava formando l'ottavo, ma al tempo stesso abbiamo un riassorbimento degli elementi dentari superiore. Questo ci portava ad avere una diagnosi differenziale. L'unica cosa da fare è stata quella di fare una resezione della zona, eliminare anche il dente, che era una posizione molto impegnativa perché disteso sul nervo mandibolare, e fare analizzare il tessuto. Il tessuto analizzato per fortuna non ci ha dato, questo è l'intervento eseguito, quindi notevole dispendio biologico da parte del paziente, per fortuna l'istologico non ci ha dato brutte notizie, quindi abbiamo optato per una cisti follicolare con un raro riassorbimento dell'elemento dentale. È sempre fondamentale, prima di approcciarci chirurgicamente ad un intervento di cistectomia, richiedere un attack dental scan. L'attack ci permette infatti di vedere tridimensionalmente dove arriva questa cisti. In questo caso, un caso sempre affrontato da me, non abbiamo dalla lastra nessuna evidenza di tessuto cistico. Il paziente era totalmente asintomatico, ma da un attack preoperatoria per l'inserimento degli impianti abbiamo trovato questa cisti di grandi dimensioni esattamente sotto l'incisivo centrale. La cisti, come si può vedere da quest'altro taglio, riusciva addirittura ad erodere la corticale della parete nasale. Abbiamo quindi una zona molto complessa e delle strutture anatomiche che a un certo punto lasciano la nostra attinenza odontoiatrica ed entrano nella otorinolaringoiatrica. Anche qui l'intervento di cistectomia è stato eseguito ambulatorialmente e il paziente ad oggi sta bene. L'osso è stato recuperato con degli innesti, ma tutto ciò per dirvi che è fondamentale nelle prime visite la possibilità di avere dei referti radiologici, perché questo tipo di patologia è un tipo di patologia totalmente asintomatico e che può portare, a distanza di anni, anche a gravi fratture mandibolari. Quindi l'approccio chirurgico è molto semplice. Si cerca di eliminare in toto la cisti, oppure, se ciò non è possibile, viste le grosse dimensioni, si lascia decomprimere. Questo tipo di intervento prevede una fissolizzazione della cisti, detto molto spartanamente, che avendo perso la sua capacità di espansione dovuta alla sua forza interna, tenderà a sgonfiarsi e quindi a ricreare il tessuto osseo mancante. È buona norma, infine, da parte del professionista affidarsi ad un centro di istologia del cavo orale, perché anche la lesione più innocua ha bisogno di essere analizzata. Con questa breve e concisa carrellata sulle lesioni cistiche vi do appuntamento alla prossima puntata e vi mando un caro saluto. Dal dottor Vincenzo D'Amico è tutto. Grazie. 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 Grazie.